Sei tu. Non facciamo tragedie. Sì, dai vieni dentro. Vogliamo parlare? Non facciamo tragedie. È venuto il momento di dirsi addio. Abbiamo avuto dei momenti meravigliosi. Sì, quei tramonti rossi a Brindisi, a Civita Vecchia, ai barbecue. So che brucia ancora per me ma non c'è più lo stesso clima, mi togli il respiro e poi non soddisfi neanche i miei fabbisogni. Sì, beh, ci stiamo facendo del male. E poi un'altra. Delle altre. Sì? E loro sono pulite. Non mi far entrare nel particolare. Per favore. Smettila. Tu sei un fossile. Non guardarmi così. Non piangere. Non ti mettere a piangere. Con te non c'è futuro. Dobbiamo dirci addio subito. Vabbè, massimo 2025. Non guardarmi così. Non cominciare a piangere. Grazie. Grazie a tutti.